Ieri l'ultimo allenamento di Maurizio Buscaglia, oggi l'insediamento di Romeo Sacchetti. Dopo 48 ore di riflessione, la VL decide per il cambio di manico. Esonerato il coach barese che paga col prezzo più salato la sconfitta con Sassari. Proprio quella Sassari, tanto cara Sacchetti che in terra sarda vinse il primo storico scudetto della società, aggiungendovi pure due Coppe Italia e una Supercoppa. Buscaglia lascia dopo uno scorro di 5 vittorie, 10 sconfitte e un terzo ultimo posto in classifica, spauracchio di una zona retrocessione alla quale ci si è avvicinati in maniera allarmante dopo un'altrettanto preoccupante involuzione di gioco e atteggiamento nelle diverse fasi di ogni partita. Sacchetti arriva a Pesaro a 70 anni con un curriculum da Hall of Fame del basket italiano infiocchettato da 5 anni al comando della Nazionale Italiana. Ora dovrà rimettersi in gioco calandosi in una realtà completamente differente. Nuovo allenatore in campo, ma anche nuova voce in capitolo sul tema di quei correttivi a roster che sembrano necessari ad invertire la rotta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.